L'incubo di molti motociclisti potrebbe essere la partenza in curva, magari una curva cieca, magari con una pendenza, una contropendenza, molti diranno eh vabbè ma che ci vuole, ma vediamo realmente la tecnica. Io sono Daniele e questa è Motocicletta Team. Un aspetto fondamentale di quando affrontiamo una manovra del genere è lo sguardo. Mi fermo con un piede a terra, sguardo. Se la curva è cieca, come lo stop qua alle mie spalle, quindi il lato sinistro è cieco, mi avvicino bene al manubrio, sguardo a sinistra e poi a destra. Se devo partire e andare a destra, il piede che avrò appoggiato a terra sarà il destro. Quindi partenza gas brillante, sguardo dove devo andare e parto con decisione. Se invece devo andare a sinistra, il piede di arresto che si fermerà a tenere la moto sarà il sinistro. Quindi piede sinistro per terra, mi abbraccio bene al manubrio, sguardo a sinistra e destra. Se non sopraggiunge nessuno, parto, gas brillante, sguardo dove devo andare e parto. La scelta del piede a terra è importantissima. In questo caso è pianeggiante, tutto in piano, l'asfalto è pulito, non ci sono ostacoli. devo mettere il piede per terra nella direzione in cui voglio andare, ma anche dove non ci sono ostacoli. Se devo andare a destra e ho ostacoli sulla mia destra, non posso mettere il piede, allora metterò un piede, quello sinistro dove non ho ostacoli. Gas brillante, sguardo come parto, inverto i piedi se ce n'è bisogno, oppure metto il piede sulla pedana e parto. Mi spiego meglio facendovelo vedere. Arrivo, freccia a destra in questo caso, piede a destra, controllo, mi avvicino allo sterzo, se la curva è cieca, se l'incrocio è cieco, sinistra e destra. Rilascio il piede, sguardo dove voglio andare, piede sulla pedana e via. freccia a sinistra. In questo caso mi sono fermato con il piede destro per terra, perché simulo di non avere un appoggio sicuro sulla mia sinistra. Sguardo, quindi mi avvicino allo sterzo, benissimo, non c'è nessuno, gas brillante, sguardo dove devo andare, rilascio il piede, metto il piede sulla pedana. A sinistra, freccia, un piede, sinistro, a terra, sguardo, abbraccio il mio manovro, sguardo dove devo andare, gas brillante e parto. freccia a destra, la mia intenzione è andare a destra, simuliamo di non avere l'appoggio sicuro col piede destro, quindi piede sinistro a terra. Abbraccio il manovro perché l'incrocio è cieco, guardo che non sopraggiunga nessuno, sguardo dove devo andare, gas brillante, lascio il piede per terra, lo metto sulla pedana e via. Questa è una simulazione di cosa intendo, partenza, quindi da fermo e in curva, cioè devo partire già curvando. Ho fatto un po' di simulazioni, spero sia chiaro, adesso andiamo a vedere cosa si intende quando c'è una contropendenza. Cambiato location, sono in una zona dove arriva dietro di me una stradina già leggermente in pendenza, sinistra in salita, destra in discesa e anche molto pendente. Vediamo se si può capire più o meno dalla ripresa. In questo punto c'è proprio lo stop e mi trovo, se devo andare a sinistra, quindi da questa parte in discesa, a non avere l'appoggio del piede, proprio perché qua si forma una conca e poi scende. Di conseguenza salendo invece a destra, o meglio arrivando da là sarà una sinistra, avrò sì un buon appoggio col piede, ma avrò questa pendenza notevole che potrebbe darmi un po' fastidio. Andiamo a vedere con la GoPro che abbatterà completamente le pendenze, ma credo di aver spiegato bene il senso. Andiamo a vedere come posizionare bene i piedi, sguardo e il gas brillante. Approfitto per farvi vedere, per chi volesse saperlo, in questo caso io ho parcheggiato la moto in forte pendenza e praticamente in bilico. Se io faccio così, il rischio che la moto cada a destra è molto elevato, innanzitutto le moto non si parcheggiano così, ma avrei dovuto parcheggiarle al contrario. Ma per una questione di praticità per fare il video mi sono appoggiato un attimo qui, tanto è questione di poco tempo, sono qui, non succede niente, ma se dobbiamo lasciare così la moto è meglio parcheggiarla al contrario, ovviamente non davanti a un incrocio, ma è in una situazione di pendenza. Se devo salire, giro da questo lato, così che la moto non può cadere. Sembrerà scontato, però io lo dico, poi ognuno fa quello che vuole. Siccome c'è molta pendenza, io spingo la moto verso il cavalletto, mi avvicino sopra il manubrio e proprio scivolo sopra. Con il mio peso la moto già si alzerà, via, tolgo il cavalletto, problema risolto. In questo caso la marcia non mi scivola neanche in avanti la moto. Partiamo con la simulazione. Arrivo, il più di sinistro è quello più vicino a terra, perché la pendenza va verso destra, cioè la parte bassa è a destra, freccia a destra, sguardo a sinistra è a destra, che in questo caso è cieco, quindi abbraccio il manubrio, cioè quel petto vado sopra il manubrio, sguardo, gas brillante, mollo i freni e vado. Rialto e rimetto il piede sulla pedana. Freccia a sinistra, metto il piede sinistro, perché la pendenza va verso destra, quindi parte bassa verso destra, quindi il piede sinistro sarà più vicino a terra. Infatti il ginocchio è piegato. Sguardo, gas brillante, non arriva nessuno, mi appoggio per vedere il lato cieco. Gas brillante e vado. Sguardo, dove devo andare? Simuliamo di non poter mettere il piede sinistro, dove sono più agevolato dalla pendenza, a terra. Quindi io non aspetto di arrivare al punto di non ritorno, cioè dove devo fermarmi, sono poi in vado e supero lo stop. Mi fermo prima, mi fermo in anticipo, se posso, cerco di vedere se arrivano macchine. In questo caso sta arrivando anche una macchina, la intravedo dai cespugli. Gas brillante, piede sulla pedana. Mi sono messo di nuovo in una posizione critica per il cavalletto, quindi spengo la moto, la lascio in prima marcia così, non scende, non abbandono la moto. Provo. Ok, la mia pendenza verso destra, dove sto scendendo, è più alta. Scendo da questa parte, ok, la moto è veramente molto instabile, non va bene così. Quindi la prendo, schiaccio la frizione, trovo una posizione un po' più comoda, ma questo solo se sono costretto. Attenzione quando la spostiamo dal lato destro, perché potrei urtare il cavalletto e chiudere il cavalletto. In questo caso è bene impratichirsi, fare pratica per fare questa cosa. Ciao! Ok, fate questa cosa, abituatevi in una zona di sicurezza, magari con un amico che vi tiene la moto, l'alzate, vi avvicinate, vi appoggiate sopra e toccate il cavalletto qualora dovesse servire. Questo esercizio serve anche a farvi sentire bene i pesi della moto e sarete sempre più padroni, anche da fermi, a guidare la moto. Già rispondo alla prima domanda, non c'è bisogno di essere alti, anzi, io sono molto alto, va bene, ho il braccio lungo, ma se fossi stato un po' più basso sarei più vicino a questa zona, quindi avrei meno leva, meno sbilanciamento, quindi sarei forse più agevolato. Comunque bisogna fare tutte le prove per capire determinate dinamiche. Allora ragazzi, io spero sempre di portare contenuti interessanti, simpatici e che magari sotto i commenti si possano creare discussioni come spesso accade sotto i miei video, quindi mi fa molto piacere e di questo vi ringrazio, grazie anche per essere arrivati a questo punto del video e niente, qualsiasi domanda fatemela qua sotto. Ragazzi, grazie di tutto, da Daniele, ciao!